Una delle più grandi novità del mercato del gioco pubblico italiano è sicuramente il Bingo Live 10.001 quindi andremo subito a scoprire qual è questa grande novità con Alessandro Polo, CEO dell'azienda che promuove questo prodotto. Grazie di essere qua intanto, il Bingo Live è un gioco innovativo perché porta dentro le case degli italiani il gioco del bingo come se fosse dentro una sala bingo è portare nel proprio telefono, nel proprio computer, nel proprio tablet il gioco del bingo ovvero è proprio come se fossimo dentro una sala bingo abbiamo la macchina estratrice che è uguale, la sequenza che è uguale, il dealer che ci intrattiene raccontandoci del più e del meno di informazioni per quanto riguarda il gioco, di informazioni in generale, è un gioco fatto apposta per far divertire il cliente comodamente da casa. Sappiamo che avete quasi il monopolio, non il monopolio, ma delle sale bingo in Italia, quindi com'è la reazione dei clienti? Meglio di voi non può capire nessuno qual è la reazione dei clienti rispetto a questo prodotto che è veramente importante. Sì, noi veniamo da un'esperienza ventennale di bingo, siamo partiti ancora nel lontano 2001 e nel momento in cui siamo riusciti ad avere la concessione mi è venuta in mente l'idea di portare online la stessa esperienza che c'era nel bingo. I clienti delle sale bingo l'hanno presa con entusiasmo perché vedo che sono già affezionati al gioco ma non per questo non vengono in sala, non per questo non giocano anche all'altro bingo che abbiamo online quindi questo è un gioco che ha fatto semplicemente aumentare l'interesse verso l'online sono veramente sorpreso, sono contento di come ha risposto la clientela e soddisfatto di come sta andando contate che siamo online soltanto da 20 giorni eppure ogni giorno aumentano i clienti e vedo che rispondono sempre di più alla chat si divertono, giocano con noi, sono contenti, sono molto felice del progetto. Abbiamo seguito passo dopo passo tutta la procedura di attivazione di omologa che sappiamo in Italia è molto pesante e adesso la presenza in Fiera Adenata che vi posiziona ancora di più sul mercato italiano e qual è il posizionamento attuale con gli operatori perché questo gioco può andare in tutte le piattaforme di gioco? Il gioco può andare dappertutto, l'interesse ho visto che è molto quindi tutti quanti vogliono il gioco e io sono felicissimo di darlo a tutti quanti perché più siamo meglio è più il bingo è alto, più c'è interesse per i giocatori, più si divertono, più si può fare show, più è tutto meglio quindi io sono contento di integrare il gioco a tutti quelli che me lo chiedono e sono tanti, veramente tanti, quindi io sono molto positivo e sono sicuro che avremo un discreto successo per il semplice fatto che è una novità Grazie Alessandro Polo, consiglio di 10.000 lavori Grazie a voi